La regione Puglia è stata inserita tra i possibili responsabili civili della tragedia ferroviaria del 12 luglio 2016. Lo scontro tra treni avvenuto sulla tratta Andrea Corato della ferrotranviaria che costò la vita a 23 persone e provocò il ferimento di altre 51. E' la principale novità che emerge dall'udienza che si è tenuta oggi nell'aula bunker del carcere di Trani dove si svolge il processo Bari Nord. Il collegio giudicante, presieduto da Giulia Pavese, ha infatti deciso di ammettere tra i responsabili civili la regione, così come chiesto dai legali di alcuni parenti delle vittime della terribile tragedia. La stessa istanza era stata proposta in fase di udienza preliminare, ma il GUP l'aveva respinta per incompatibilità tra il ruolo di parte civile e quello di responsabile civile. Che la situazione in cui si trova adesso la regione, con la decisione di oggi, potrebbe infatti determinarsi alla fine del processo che la regione sia contemporaneamente parte offesa e responsabile della tragedia. E' un punto su cui si era spesa l'avvocato penalista Laura Di Pilato che cura la causa per conto di alcuni familiari delle vittime e che oggi ha trovato riscontro nella decisione del collegio giudicante. L'ordinanza ha ribaltato ciò che il GUP, la dottoressa Schiralli, non aveva ammesso durante l'udienza preliminare, perché lì fu l'unica a chiederlo. Invece nell'udienza dibattimentale ci sono state più parti civili che hanno richiesto la missione come responsabile civile della regione Puglia e il collegio giudicante lo ha ammesso. Che cosa significa questo per i familiari delle vittime? Beh, è una garanzia perché il responsabile civile non fa altro che garantire ulteriormente oltre la ferrotranviaria, adesso c'è la regione Puglia e quindi un ente pubblico, per l'eventuale risarcimento dei danni. La regione si aggiunge quindi tra i responsabili civili. Ferrotranviaria è imputata insieme con 17 persone fisiche, dipendenti e dirigenti dell'azienda pugliese di trasporto e il MIT, accusati a vario titolo di disastro ferroviario, omicidio plurimo colposo, lesioni gravi colpose, omissione dolosa di cautele, violazione delle norme di sicurezza sul lavoro e falso. Secondo la magistratura tranese, l'incidente fu causato da un errore umano, ma sono ritenuti responsabili anche coloro che non avrebbero vigilato sulla sicurezza della tratta a binario unico. Il collegio giudicante ha oggi anche escluso la costituzione come parte civile di un'associazione perché la richiesta è stata giudicata tardiva. I familiari che cosa hanno detto all'esito di questa giornata? Allora i familiari, loro sono lì impassibili, ascoltano, guardano, diciamo non hanno, non godono di questo successo, non riescono forse nemmeno a capirlo perché loro pensano solo al dolore che hanno dentro.